Buongiorno e benvenuti a questo corso sul metabolismo cellulare e le sue applicazioni biotecnologiche. Questa è una presentazione che sarà strutturata in due parti. Io che vi parlo sono Gianfranco Gilardi, ordinario di biochimica all'Università di Torino e condivido questo seminario che vi offriamo con Francesca Valetti che è una mia collaboratrice sempre dell'Università di Torino. Noi siamo due biochimici che lavorano nell'ambito delle biotecnologie. La scelta dell'argomento che vi proponiamo oggi è proprio basato sulle nostre esperienze di ricerca e tratteremo il metabolismo cellulare e lo sfruttamento che si può fare oggi attraverso tecniche di ingegneria sia proteica che metabolica nello sfruttare microorganismi per produrre molecole che sono di interesse di tutti i giorni. Nella mia parte della presentazione io presenterò alcune linee generali del metabolismo cellulare, quindi alcuni concetti generali anche sulla conversione di energia. Passerò poi a degli esempi di come il metabolismo può essere usato per produrre molecole di interessi, di interesse quali per esempio farmaci o metaboliti di farmaci, molecole bioattive in generale, vitamine per esempio e bioplastiche. Nella seconda parte invece la mia collega Francesca Valetti vi parlerà di metabolismo usato per produrre biocarburanti, quindi si parlerà di idrogeno, di etanolo, metanolo, butanolo e anche di sfruttamento di microorganismi per fissare la CO2 che è un problema molto attuale, la concentrazione di CO2 dell'atmosfera che sta aumentando e che vogliamo ovviamente cercare di ridurre. Questa presentazione è fatta in remoto, io addirittura sono in Inghilterra mentre la mia collega Francesca Valetti è a Torino, ma speriamo che funzioni e anche in questo periodo di pandemia si riesca comunque a cercare di andare avanti il più possibile con la normalità. Allora, il metabolismo cellulare. Il metabolismo cellulare è una materia molto affascinante perché dobbiamo pensare che nelle nostre cellule avvengono milioni e milioni di reazioni simultaneamente, reazioni che in un laboratorio di chimica organica sarebbe estremamente difficile da ottenere con la stessa efficienza e con la stessa velocità e soprattutto nelle nostre cellule queste reazioni avvengono a temperatura o a seconda dell'organismo, a temperatura ambiente o alla temperatura dell'organismo in questione. Quindi siamo nel range più o meno tra i 25 e 36 gradi a eccezione di quegli organismi che sono estremofili, che quindi vivono in condizioni di temperature molto basse, per esempio su ghiaccio oppure sui vulcani, però per quell'organismo tutte le varie reazioni possono avvenire a quella certa temperatura allo stesso tempo. Mentre invece in un laboratorio di chimica organica, a seconda dei diversi step della fase di sintesi, si può lavorare in condizioni di temperatura bassissima, intorno al zero gradi, quindi al ghiaccio fondente, o addirittura con dei matracci che bollano, quindi addirittura a centinaia di gradi. In laboratorio di chimica organica si lavora a volte anche in situazioni di pressioni elevate, mentre invece le nostre cellule funzionano benissimo alla temperatura atmosferica, più o meno intorno a un'atmosfera. Il pH delle cellule è tendenzialmente neutro, intorno a 7, mentre invece nelle diverse fasi della sintesi delle molecole organiche il pH viene variato aggiungendo acidi basi talvolta anche forti e quindi si devono anche fare delle estrazioni con dei solventi, dei vari intermedi di reazione, mentre invece nelle cellule le reazioni sono simultanee, regio e stereospecifiche. Quindi se una funzionalità chimica deve essere aggiunta su un certo atomo di carbonio con una certa stereospecificità, quindi un certo isomero piuttosto che un altro, questo avviene in modo assolutamente specifico nelle nostre cellule, mentre nel laboratorio di chimica organica spesso si ottengono delle miscele racemiche, quindi con più isomeri, che devono essere separati e quindi vengono messi in atto tutta una serie di processi che non sono particolarmente compatibili con l'ambiente e quindi purtroppo l'industria chimica è un problema dal punto di vista dell'impatto ambientale che alcuni processi chimici possono avere. Nelle cellule abbiamo di solito quindi rese più o meno del 100%, mentre invece nella sintesi organica standard le rese possono essere variabili. Se noi diamo un'occhiata generale a quello che è l'impianto del metabolismo di una cellula da tipo, e se andate su Google e cercate come parola chiave metabolismo o metabolic pathway, di solito vengono trovati delle mappature, come quella che vi sto facendo vedere adesso, dove assolutamente non bisogna leggere le diverse righe, ma da solo idea, e ripeto questo è un poster relativamente semplificato, questo ci dà idea di tutte le varie reazioni che avvengono simultaneamente nelle nostre cellule. Ma seppure nella complessità di una immagine come questa, imparando a riconoscere il metabolismo, si riconoscono determinate vie metaboliche che hanno una importanza più rilevante rispetto ad altre. Per esempio questa che ho indicato qui in rosso e in giallo è il cosiddetto metabolismo centrale. In giallo è indicata la glicolisi, mentre invece in rosso è indicato il ciclo di Krebs. La glicolisi avviene nel citoplasma delle cellule, qui vedete una micrografia al microscopio elettronico di una cellula eucariota col suo nucleo, vedete il citoplasma, la glicolisi avviene nel citoplasma. Il ciclo di Krebs è respirazione cellulare, quindi catena respiratoria con produzione di ATP, con la produzione della stragrande maggioranza dell'ATP della cellula, avviene invece in organelli che sono i mitocondri, di cui parleremo oggi perché sono molto rilevanti appunto per la produzione dell'ATP che sostiene alla fine tutte le reazioni di cui parleremo oggi attraverso la mediazione di carrier di elettroni che sono il NADH e il FADH2 che incontreremo qualche diapositiva più tardi. Una cosa interessante è che oggi si pensa che i mitocondri che contengono al loro interno una catena di DNA circolare sono dei derivati diciamo di simbionti, di batteri che sono diventati simbionti con le nostre cellule. Infatti ci sono molte similitudini tra le reazioni che avvengono all'interno di un mitocondrio e quelle che avvengono in batteri tipo come per esempio Escherichia coli. Quindi quello che vedremo oggi sono delle linee metaboliche comuni con diverse cellule che possono essere rappresentati sempre in modo schematico in questa altra diapositiva in cui partendo dall'alto verso il basso si va da molecole piuttosto complesse quindi polisaccaridi, lipidi, acinucleici, proteine fino verso il basso a molecole estremamente semplici come vedete acqua, ossigeno, ammoniaca e però con formazione vedete di adenosina trifosfato che è quella molecola che è chiave per sostenere tutto il metabolismo cellulare. Quindi non mi soffermerò nelle varie diciamo vie metaboliche ma vi faccio notare come ci sia questo impianto centrale qui che sto delineando col mouse, con la freccia, dove vedete che si parte da glucosio, si arriva a piruvato e questa è diciamo la glicolisi essenzialmente. Dal piruvato si va da acetilcoenzima A, poi ciclo dell'acido citrico che sarebbe il ciclo di Krebs dove viene prodotta della CO2, quindi il glucosio viene smantellato diciamo così a CO2 e unità riducenti, vedete qui il simbolo dell'elettrone, vengono raccolti da NADH e FADH2 per entrare nella catena di trasporto elettronico e quindi nel caso della cellula eucariota qui siamo a livello dei mitocondri, affinché l'ossigeno che noi respiriamo venga convertito in acqua e il contenuto energetico che è intrappolato diciamo nelle unità riducenti del NADH e del FADH2 servono per produrre una grande quantità di adenosina trifosfato. Torneremo su alcune di queste tappe, qui sulla sinistra è indicato qualche dettaglio in più che vi lascerò poi leggere con calma per conto vostro, ma quello che ci interessa oggi è la parte qui centrale, quindi la glicolisi e la fosforilazione ossidativa. La glicolisi è la via metabolica cosiddetta ancestrale, ancestrale perché è comune a tutte le cellule, infatti la glicolisi avviene in assenza di ossigeno. Attraverso la glicolisi il glucosio viene diviso in due molecole di piruvato, il glucosio a sei atomi di carbonio produce due molecole di piruvato a tre atomi di carbonio. A seconda se un organismo è aerobico o anaerobico, quindi a seconda se si è in presenza o in assenza di ossigeno, se siamo in anaerobiosi intervengono poi dei processi di fermentazione che illustrerò tra qualche diapositiva. Se siamo in presenza di ossigeno, se siamo in aerobiosi e abbiamo un organismo che vive, quindi che sopravvive solo in presenza di ossigeno, subentrano questi altri processi che sono il ciclo di Krebs, il ciclo dell'acido citrico, la catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa. Ora, questa parte di destra, aerobiosi, ovviamente avviene in presenza di ossigeno ed è tipica di quegli organismi che si sono sviluppati sul nostro pianeta da quando è comparsa la fotosintesi. Infatti la fotosintesi clorifiliana è quel processo che sostiene la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera e l'ossigeno quindi viene sfruttato dagli organismi aerobici per produrre una grande quantità di adenosina trifosfato. Mentre invece nel caso della anaerobiosi questi sono organismi più primitivi come i clostridi e gli attinomiceti di cui sentirete parlare particolarmente nella parte della professoressa Valetti, questi sono probabilmente organismi più antichi, diciamo, che potevano infatti già essere presenti nelle loro forme ancestrali ovviamente, potevano già essere presenti sul nostro pianeta prima che ci fosse la fotosintesi. Per questo si dice che la glicolisi e il metabolismo anaerobico è una via metabolica ancestrale perché può avvenire anche in assenza di ossigeno. Ma veniamo al diciamo al cuore di quello che è l'argomento che trattiamo oggi che è quello delle applicazioni biotecnologiche del metabolismo e cominceremo con quelle più antiche, più semplici che sono le applicazioni biotecnologiche del metabolismo anaerobico, quindi in assenza di ossigeno. Quindi riprendiamo qualche concetto della glicolisi. Non entro nel dettaglio delle reazioni particolari che avvengono nella glicolisi, ma diciamo per lo scopo di questa presentazione di oggi basta dire che la glicolisi è una serie di reazioni, dieci reazioni, che vengono catalizzate ovviamente da dieci enzimi diversi che vengono schematicamente divisi in due gruppi. Le prime cinque reazioni sono reazioni che vengono chiamate reazioni della fase di investimento energetico, perché in questa prima fase il glucosio entra in una via, diciamo una serie di reazioni, cinque, in cui vengono consumate due molecole di ATP. Quindi l'adenosina trifosfato, l'energia che serve per la sopravvivenza della cellula, in questo caso viene consumato, viene consumato anziché prodotto, perché bisogna che la molecola del glucosio venga attivata perché queste reazioni possono avvenire. La seconda parte invece delle reazioni, la seconda parte della glicolisi, sono cinque reazioni che appartengono a quella che viene chiamata fase di generazione o recupero di energia. Infatti in queste cinque reazioni si formano quattro molecole di ATP e due molecole di NADH. Ora, se è il prodotto del glucosio è due molecole di piruvato, il piruvato è la molecola che vedete qui sulla destra, molecola a tre atomi di carbonio, quindi due molecole di piruvato perché gli atomi di carbonio vanno conservati, quindi sei carboni di glucosio portano a due molecole a tre atomi di carbonio di piruvato. Ma quello che è importante vedere è che mentre nella prima fase venivano consumati due ATP, nella seconda vengono prodotti quattro, quindi al netto la glicolesi produce due molecole di ATP, quindi è una via metabolica, forse farraginosa diciamo perché non produce una grande quantità di ATP, ma due molecole di ATP le produce e queste sono importanti ovviamente per il sostanzamento della cellula. In concomitanza però vengono prodotti anche due NADH, cioè due molecole di nicotinamide adenin di nucleotide, la cui formula vedete qui in basso, dove nel tratteggio è indicata la sua forma ridotta NADH. Infatti la nicotinamide che è questo eterociclo che vi sto indicando adesso con il mouse vedete che ha due atomi di idrogeno che portano con sé il loro elettrone, quindi questo è il cosiddetto NADH, cioè la nicotina adenin di nucleotide ridotta. Mentre invece quella a sinistra è la formula del NAD+, la stessa molecola in cui vedete non sono presenti quegli atomi di idrogeno, quindi rappresenta la sua forma ossidata. Quindi dalla glicolesi si forma piruvato, si forma del NADH, due molecole di NADH e due molecole di ATP, di adenosina trifosfato, che è questo nucleotide che vedete qui, formato da adenina, da ribosio e tre fosfati. Vedremo tra un attimo che sono proprio questi tre fosfati che conferiscono un carattere diciamo importante e energetico a questa molecola. Nel caso della anaerobiosi quindi si parte da glucosio e il glucosio a sua volta può essere derivato da altri monosaccaridi quali il galattosio oppure da polisaccaridi come per esempio amido, cellulosa, non ha importanza, ma comunque si parte da glucosio, si arriva a piruvato, si produce dell'ATP, il quale ATP verrà usato dalla cellula e quando viene usato l'ATP sarà convertito in ADP, quindi l'adenosina trifosfato sarà convertito in adenosina difosfato, che sarà preso in carico di nuovo dalla glicolesi e sarà di nuovo trasformato in ATP fin tanto che c'è del glucosio che può fornire l'energia contenuta nei suoi legami e la nicotinamide ossidata diventerà ridotta e si accumulerà quindi del NADH. Ora la questione è che la glicolesi potrà procedere fin tanto che c'è del NADH e dell'ADP. Il NADH ovviamente deve essere formato di nuovo da del NADH, il quale NADH potrà dare del NADH solo attraverso una serie di reazioni che sono le cosiddette reazioni di fermentazione. Infatti a seconda dell'organismo che è obbligato o facoltativo, anaerobico, a seconda dell'organismo che prendiamo in considerazione, possiamo avere due tipi di fermentazione schematicamente. La fermentazione lattica, che avviene normalmente in batteri, il lattobacilli, che vedremo tra un attimo, ma può avvenire anche in alcuni tessuti delle cellule animali, per esempio nel nostro muscolo. Se non abbiamo sufficiente ossigeno ci sono degli enzimi che possono far avvenire le reazioni che vedremo tra un attimo con accumulo dilattato. La fermentazione al alcolica, quindi scusate, il piruvato dà lattato attraverso la fermentazione lattica. Il piruvato invece darà etanolo attraverso un altro processo che prevede due step, con un intermedio che è l'acetalgeide e questa è la fermentazione alcolica, che è tipica dei lieviti. Notate che cosa avviene in concomitanza con la produzione di lattato a partire da piruvato. Il NADH viene di nuovo convertito in NADH+, e questo sarà il NADH+, che potrà continuare a far procedere il processo della glicolisi. Quindi è una questione di riciclo del NADH in NADH+. Mentre invece nel caso della fermentazione alcolica ci sono due passaggi, un primo passaggio che produzione di CO2 con la formazione di acetaldeide, molecola a due atomi di carbonio, la quale viene poi ridotta dal NADH a formare dell'etanolo. Questi due processi di fermentazione sono noti fin dal paleolitico quando i primi biotecnologi, anche se la parola biotecnologia ovviamente non era ancora coniata, ma essenzialmente per la produzione di latticini e produzione di bevande alcoliche, questi due processi sono stati sfruttati dall'uomo prima ancora di capire ovviamente che cos'è il metabolismo e quali sono i microorganismi che sono coinvolti. Ma vediamo qualche dettaglio in più. La fermentazione lattica avviene grazie a dei batteri gran positivi della specie del lattobacillus, di cui si conoscono ben 260 specie, con delle differenze l'una rispetto agli altri, ma che sono molto importanti per l'industria casearia. Infatti la fermentazione lattica che converte il piruvato in lattato usa un enzima particolarmente presente nei lattobacilli che è l'allattato dei idrogenasi. Ora il nome di questo enzima si riferisce alla reazione inversa, cioè la deidrogenazione del lattato piuttosto che la idrogenazione o riduzione del piruvato, perché questo enzima è capace di far avvenire con efficienza diversa la reazione in senso inverso e il nome è stato preso dalla reazione inversa lattato dei idrogenasi. Ma quello che ci interessa qui vedere è che la lattato dei idrogenasi usa il NADH per estrarre unità riducenti da questa molecola e trasferirla sull'atomo di carbonio 2 del piruvato che da gruppo chetonico diventa gruppo alcolico e quindi ci dà il lattato. Il lattato è un acido, l'acido lattico, che dà quel tipico gusto acidulo che ha lo yogurt e quindi ecco che i lattobacilli sono usati proprio per questo scopo, per la produzione di yogurt, per la produzione di latticini, di formaggi e quindi applicazione biotecnologica. Come vi ho detto questo enzima è presente anche nelle nostre cellule e subentra quando per esempio nel nostro muscolo non c'è sufficiente ossigeno, quindi avviene la degradazione anaerobica del glucosio, si accumula del lattato che provoca dei crampi e quindi diciamo ha un risvolto completamente diverso questa situazione, ma la reazione chimica alla base è sempre la stessa. Per quanto riguarda invece la fermentazione alcolica abbiamo a che fare con degli lieviti, il Saccharomyces cerevisiae, che è invece un fungo, un fungo monocellulare che viene molto spesso usato come modello di organismo, modello di cellula eucariota. Vediamo qui una foto di questo lievito, vedete che ci sono delle gemme sulla superficie delle cellule perché è il meccanismo con cui questo organismo si riproduce e in questo fungo sono presenti due enzimi chiave che sono la piruvato dei carbossilasi e l'alcol dei idrogenasi che lavorano diciamo così in concertazione, in concerto. Infatti il primo, la piruvato dei carbossilasi, decarbossila, quindi diciamo estrae il gruppo carbossilico dal piruvato producendo della CO2 e si produce quindi dell'acetaldeide, molecola a due atomi di carbonio perché un carbonio è stato staccato diciamo così come CO2. Poi l'alcol dei idrogenasi usa questa acetaldeide per riciclare il NADH che diventerà NAD+, e si produce quindi dell'etanolo, vedete il gruppo alcolico dell'etanolo. Ora queste reazioni sono sfruttate come vi ho detto nel caso per esempio della lievitazione del pane, il pane lievita perché si produce questa molecola di CO2 che provoca diciamo il sollevamento, l'aumento della massa, del volume dell'impasto e vedete le proteine contenute, il glutine che è contenuto nell'impasto diciamo si organizza intorno a queste bolle e questo è l'effetto appunto della lievitazione come anche avviene nel caso della produzione del vino, sappiamo benissimo che il mosto nel momento della fermentazione aumenta di volume perché si producono queste bolle. In questo caso la reazione viene spinta verso la formazione di etanolo e quindi si può produrre vino come anche birra e così via, quindi fermentazione alcolica. Ma vediamo cosa succede in aerobiosi. Allora in aerobiosi questo primo processo della glicolisi procede con quella che viene chiamata la respirazione cellulare, cioè il piruvato viene prima convertito in acetilcoenzima con la rimozione di una molecola di CO2, l'acetilcoenzima entra nel ciclo di Krebs che produce della CO2, produce anche una piccola quantità di ATP, ma le due molecole di CO2 che vengono eliminate da ogni ciclo di Krebs, da ogni diciamo giro di questo ciclo di Krebs, fa sì che i tre atomi di carbonio del piruvato vengono eliminati, il primo con una molecola di CO2 a questo livello quando si produce acetilcoenzima e i rimanenti due atomi di carbonio vengono eliminati a questo livello, a livello del ciclo di Krebs. Quindi il nostro glucosio in questo modo, i suoi atomi di carbonio sono stati convertiti completamente in CO2, ma l'energia contenuta nei legami di questa molecola del glucosio vengono intrappolati come elettroni in carrier, in NADH e FADH2 che entrano nella catena respiratoria e in questo modo l'energia che è contenuta nei legami del glucosio che è di circa 2870 kJ per mole viene, vedremo poi come a essere convertita in adenosina trifosfato. Quindi se noi prendiamo una molecola di glucosio e seguiamo il suo processo di ossidazione in presenza di ossigeno, perché siamo in aerobiosi, possiamo immaginare di seguire qual è il destino di questi atomi. Vedete che ho indicato in violetto gli atomi di carbonio e ossigeno del glucosio, in blu gli atomi della molecola di ossigeno e in rosso idrogeno. Allora, a questi due livelli, vedete, gli atomi di carbonio e di ossigeno, che sono parte della molecola di glucosio, vengono in parte combinati con, diciamo, dell'ossigeno a formare della CO2. Ma la grande maggioranza, diciamo, dell'ossigeno che noi respiriamo viene usato per produrre acqua e si formano infatti queste sei molecole d'acqua e in questo processo che vede il trasferimento di questi atomi di idrogeno con il loro elettrone, quindi queste unità riducenti, attraverso la mediazione del NADH e il FADH2, qui si forma una grande quantità di adenosina trifosfato. E se paragoniamo quindi quelli che erano le due molecole di ATP che si producevano a livello della glicolisi, vedete che nel caso invece della aerobiosi si formano altre due molecole di ATP all'interno del ciclo di Krebs, in realtà è GTP, ma che viene convertito poi in ATP e ben 26, come minimo, 26 molecole di ATP a livello della catena respiratoria. Quindi in totale una molecola di glucosio che nel processo anaerobico dava due molecole di ATP, nel processo aerobico ci dà ben 30 molecole di ATP. Quindi vedete che gli organismi, le nostre cellule si sono ben adattate a usare questa nuova molecola che è l'ossigeno che è stata prodotta dalla fotosintesi, a loro vantaggio per produrre una grande quantità di adenosina trifosfato. Riprendiamo quindi le formule del NAD, della nicotinamide adenindinucleotide, che è questa che abbiamo visto prima, vi ricordate la forma ridotta con questi elettroni a questo livello, e la formula della flavinadenindinucleotide, l'altro protagonista, che è formato come vedete da una adenosina con una molecola di ribosio legato attraverso dei fosfati e uno scheletro di ribitolo è legato a questo sistema che è un anello isolossazinico in cui ci sono questi due atomi di azoto, questo e questo, che sono responsabili del caricamento di elettroni e protoni che questa molecola FAD può trasportare come FAD H2. Ora il trasporto di questi elettroni, questi carrier, entrano nel processo di trasferimento elettronico a livello delle creste dei mitocondri delle nostre cellule o all'interno delle membrane dei prokaryoti, dei batteri, se stiamo parlando di organismi più semplici, organismi batterici. E in particolare, vedete, in questa diapositiva, senza voler entrare nei minimi dettagli, che saranno rappresentati, i dettagli saranno rappresentati in alcuni video di cui vi riportiamo il link poi nell'ultima diapositiva col materiale didattico che potete consultare, vedete che in questa diapositiva sono riportati i complessi della catena respiratoria, nella membrana interna, sulle creste, membrana interna, dei mitocondri. E i complessi sono 4, 1, 2, 3 e 4. Questi complessi sono delle molecole di membrana, costituite da più catene, con un peso molecolare elevatissimo, che al loro interno contengono dei centri redox. Contengono quindi, per esempio, ioni in ferro, contengono del FAD, dell'FMN, contengono dei cofattori capaci di caricare, di prendere in carico degli elettroni e di trasferirli. E ci sono una serie di questi centri redox a una distanza ravvicinata, una rispetto all'altro, per far sì che gli elettroni seguono una via ben precisa all'interno di ogni complesso. Il NADH si lega al complesso 1 della catena respiratoria e cede il suo protone, i suoi due protoni e due elettroni e quindi si ricicla come NAD+. Quindi si ha a livello del complesso 1 il riciclo del NADH che abbiamo visto avveniva nel caso della anaerobiosi, avveniva per i processi fermentativi. Quindi questo riciclo del NADH avviene nel caso dell'aerobiosi all'interno della catena respiratoria. La cosa interessante è che gli elettroni seguono il destino che vedete raffigurato dalla linea blu, mentre invece i protoni seguono un destino diverso e in particolare i dettagli di come questo avviene sono ancora in fase di chiarimento, ma vedete che questo complesso 1 è una pompa che porta al passaggio di quattro protoni dalla matrice del mitocondrio allo spazio intermembrano. Gli elettroni poi vengono presi dal coenzima Q che li porta sul complesso 3. Anche qui gli elettroni seguono un loro destino diverso da quello dei protoni. Il complesso 3 è anche una pompa protonica che trasferisce quattro protoni dalla matrice mitocondriale allo spazio intermembrano. Gli elettroni vengono presi dal citocromo C che li porta sul complesso 4. A livello del complesso 4 altri protoni vengono trasportati, però a livello del complesso 4 succede una cosa interessante. Il complesso 4 è un'enzima, contiene dei gruppi M e anche degli atomi degli ioni rame e converte il complesso 4, l'ossigeno che noi respiriamo viene convertito in acqua. Vengono aggiunti due protoni o meglio per una molecola di ossigeno O2, vedete che qua c'è un mezzo, ma se fosse O2 servono quattro protoni e quattro elettroni per produrre due molecole d'acqua. Il risultato, scusate ritorniamo sul complesso 2 di cui non ho parlato perché il complesso 2 è un'enzima che non interagisce con il complesso 1 ma interagisce con il complesso 3 attraverso anch'esso il coenzima Q. Il complesso 2 è un'enzima, dicevo, di membrana che fa parte del ciclo di Krebs e che converte succinato e infumarato e comunque, vedete, estrae elettroni dal succinato attraverso la mediazione del FADH2, quindi ecco che il FADH2 ha a che fare col complesso 2, mentre invece il NADH ha a che fare col complesso 1, questi elettroni che arrivano dal NAD e dal FADH vengono comunque presi in carico dal coenzima Q che li porta sul complesso 3. Ora, quello che sta succedendo quindi è che si forma acqua a livello della matrice mitocondriale ma si stanno accumulando dei protoni nello spazio intermembrano e questi protoni sono quelli che sono particolarmente importanti, perché? Perché potranno ritornare all'equilibrio, quindi questi protoni potranno ritornare nella matrice mitocondriale solo passando attraverso un complesso enzimatico che vedete qui, che è l'ATP sintasi, che funziona come un motore, letteralmente un motore che ha un suo moto rotatorio, quindi i protoni passano attraverso questo enzima facendo ruotare questa serie di proteine che funzionano come bobina che fa funzionare questa parte che è la testa, è la parte F1 di questo enzima in cui l'adenosina di fosfato viene convertita in adenosina trifosfato. Quindi questo è il cuore pulsante diciamo dei nostri mitocondri in cui si formano quelle 26 molecole di ATP per ogni molecola di glucosio che è partita diciamo dal processo di ossidazione del glucosio. Ora l'ATP è questa molecola che abbiamo già visto e dal punto di vista biologico è interessante perché ha questi legami, questi legami che sono di tipo fosfo anidridico che intrappolano diciamo così l'energia che caratterizza questa molecola. Perché questi legami vengono detti più o meno impropriamente legami ad alta energia? Perché effettivamente quando questi legami vengono a essere scissi si ristabilisce un equilibrio di risonanza, quindi questo doppio legame che qui è scritto su questo atomo di ossigeno può essere delocalizzato su questo atomo di ossigeno come anche sugli altri, delocalizzazione che era impossibile che avvenisse quando questo gruppo fosfato è legato al sistema dell'ATP. Quindi questi sono i legami la cui scessione produce dell'energia e questi sono i legami che vengono a essere sintetizzati all'interno dell'ATP sintasi quando diversi aminoacidi che compongono questo enzima, l'enzima rotante che abbiamo visto prima, vedete ecco che qui il gruppo si vede qual è l'interazione che l'adenosina di fosfato ha con l'adenosina, ha con il fosfato aggiuntivo diciamo che è presente su questa molecola. Vedete che ci sono degli aminoacidi che appartengono a questo enzima che servono a trattenere diciamo così la parte, questa parte del ribosio viene tenuta ferma all'interno dell'enzima, mentre invece i legami che devono essere formati o scissi, questo legame fosfo-anidridico viene sottoposto a una serie di stress attraverso una serie di interazioni carica carica con degli aminoacidi, in particolare delle arginine o delle lisine che sono presenti sull'enzima stesso e vedete che ecco, vedete che il fosfato in questo modo può essere, vedete questo legame si forma o si rompe a seconda del movimento che questi aminoacidi hanno e questo movimento di queste catene aminoacidiche che intrappolano, agganciano il fosfato e lo rilasciano o lo legano alla adenosina di fosfato, il movimento dicevo chiave di questi aminoacidi è il risultato della rotazione di questo enzima come abbiamo visto nella diapositiva precedente. E se vogliamo avere idea di che cosa è diciamo l'energia che si libera quando questo legame si rompe, ho portato qui come esempio quello che avviene per esempio nelle lucciole. Nelle lucciole infatti l'AMP è legato a questa molecola che è la luciferina e quando questo legame tra il fosfato e la luciferina viene rotto e quindi diciamo si libera dell'energia perché l'adenosina monofosfato viene staccato, si liberano addirittura dei lampi di luce che è quello che è diciamo quello che avviene nella lucciola, quindi vedete che si può anche visualizzare questo contenuto energetico, contenuta che è presente in questa molecola. Ma arriviamo adesso alle applicazioni biotecnologiche del metabolismo aerobico e questo è un approccio che viene sempre più usato nell'industria chimica che tende grazie al cielo diciamo così a sostituire gli impianti chimici con dei fermentatori. All'interno dei fermentatori ovviamente saranno presenti dei microorganismi, a seconda del processo industriale che si vuole ottenere si useranno microorganismi diversi e quindi all'interno di questi fermentatori in cui crescono delle semplici cellule che potranno essere dei funghi, dei batteri, degli eti a seconda delle necessità possono essere prodotte molecole diverse e vi porto qui come esempi metaboliti farmaci o addirittura farmici, nutraceutici, vitamine, bioplastiche e poi la professoressa Valetti vi parlerà per esempio di biocarburanti. Quindi sostanzialmente quello che avviene in questi semplici fermentatori è la sostituzione di impianti chimici che sono piuttosto diciamo che hanno un certo impatto sul nostro ambiente avvengono reazioni tipiche del metabolismo di questi organismi in condizioni blande. Quindi gli stessi microorganismi vengono usati come fossero delle factories, come fossero delle industrie e vedete che esistono una serie anche di giornali scientifici in cui si riportano diversi approcci in cui le microbial cell, quindi le cellule microbiche vengono usate proprio come facilities, proprio come mezzi per produrre delle molecole. Un esempio che vi riporto qui è quello della produzione per esempio di metaboliti di farmaci che avviene in Escherichia coli, quindi un batterio che cresce molto bene con la fermentazione nel quale è stato portato, è stato clonato, è stato inserito il gene di enzimi che sono presenti nel fegato di mammifero, in questo caso nel fegato umano. Cioè a livello degli epatociti sulle membrane del reticolo endoplasmatico sono presenti degli enzimi, delle monossigenasi, degli enzimi piuttosto interessanti perché sono coinvolti nel metabolismo di farmaci e quindi possono essere usati per la sintesi dei farmaci stessi. Il loro gene può essere clonato, quindi estratto dalla cellula eucariota, trasferito in Escherichia coli, il quale viene fatto crescere in fermentatori e all'interno di questi fermentatori verranno prodotte quindi queste molecole enzimatiche di origine però umana che possono essere usate per far avvenire delle reazioni chimiche particolari. E quella che vi voglio far vedere qui è la produzione per esempio di metaboliti enneossidi di queste molecole. Alcuni sono antitumorali, per esempio trattamento di leucemie o antitumorali in generale, molecole per il trattamento dell'infertilità oppure antidiabetici ancora a livello sperimentale da parte della Glaxo, ecco questo nome GSK. In qualche caso vedete che abbiamo addirittura degli isomeri, vedete che in questo caso abbiamo il clomifene in due isomeri E e Z perché vedete che cambia la posizione di questo cloro, di questo fenile in questa posizione. Lo stesso dicasi per esempio per il GSK, vedete che c'è un doppio legame, quindi ci sono due isomeri geometrici diversi anche per questa molecola. Quello che l'industria farmaceutica deve fare è caratterizzare quali sono i metaboliti di queste molecole, affinché la Food and Drug Administration, o comunque gli organismi regolatori che devono essere soddisfatti prima che un farmaco possa essere messo in commercio, le industrie farmaceutiche devono produrre anche una certa quantità dei metaboliti che un organismo produrrebbe se assumesse questi farmaci e caratterizzare quindi questi metaboliti. In questo caso i metaboliti sono degli N-ossidi, cioè l'aggiunta di un atomo di ossigeno su questi atomi di azoto con una certa specificità, questione che per farla venire in termini chimici è piuttosto complessa, ma usando delle cellule di Escherichia coli che producono la flavina monossigenasi, con l'enzima di cui vi parlavo, la FMO3, cioè la flavina monossigenasi umana di fegato umano nella sua isoforma 3, ecco perché si chiama FMO3, in cellule di Escherichia coli quindi aggiungendo del glucoso nel terreno di cultura si produce una certa quantità di NAPH che sostiene diciamo così la catalisi della flavina monossigenasi, la quale combina ossigeno, quindi metabolismo aerobico e unità riducenti del NAPH per produrre acqua, ma anche per inserire un atomo di ossigeno la vedete in queste posizioni su questi atomi di azoto. Attenzione che l'atomo di ossigeno viene inserito specificamente su questo atomo di ossigeno, vedete quassù in alto, per il dasatinib, vedete che è questo azoto che viene ossidato, non questo o questo o questo o questo o questi altri, ma specificamente questo. nel caso invece del clomifene è questo atomo di azoto che viene ossidato e viene ossidato in ugual misura nei due isomeri, mentre invece nel caso dell'antidiabetico GSK solo uno dei due viene ossidato e quindi vedete qui la specificità che un enzima può avere, evidentemente la flavina monossigenase umana riconosce questo isomero e non questo, quindi viene ossidato questo ma non quest'altro e ovviamente questo è un vantaggio enorme rispetto a quello che si può ottenere nell'industria chimica standard. Altre molecole monossigenasiche piuttosto importanti sono i citocromi P450. Anche in questo caso interviene il NADPH, però il P450 che qui è l'enzima raffigurato in questa immagine in rosso, deve funzionare su una catena di trasferimento elettronico, cioè deve esserci un'altra proteina che trasferisce gli elettroni sul P450. Quindi il NADPH dagli elettroni ha un primo FAD che è legato a questa reduttasi, il quale FAD cede gli elettroni a una seconda molecola di FMN sempre contenuta sulla reduttasi, la reduttasi poi si deve legare al P450, gli elettroni vanno sul gruppo M del P450 e da qui saranno passati sul substrato che in presenza di ossigeno da una specie idrossilata. E questo lo vediamo come le due proteine interagiscono, lo vediamo in questo film in cui vedete c'è un modello della reduttasi che può aprirsi per fare in modo che l'FMN venga a essere posto in contatto dopo aver preso gli elettroni dal FAD con il P450 che è indicato qui in rosso. Quindi in questo modo i centri redox che sono presenti su questa proteina vengono a essere portati in contatto e gli elettroni possono essere trasferiti. Allora come possono essere usati questi P450? Beh al 2018 si conoscevano circa 350.000 P450 diversi che possono essere clonati, quindi possono essere presi da diversi organismi, da animali, a piante, funghi, protozoi, batteri e così via per fare avvenire delle reazioni diverse. Per esempio dagli animali c'è un P450 che può essere usato per la produzione di vitamina D3, oppure dai funghi per la produzione di cortisolo, oppure da piante per la produzione di artemisina, oppure da batteri per la produzione di statine. Insomma a seconda del P450 che prendiamo in considerazione, possiamo produrre molecole che sono di interesse farmaceutico diverso, quindi sfruttamento del metabolismo. E qui vi porterò velocemente questi quattro esempi che vediamo qua. Le statine. Le statine sono delle molecole che inibiscono un enzimo umano. Un enzimo umano, questa 3-beta-idrossi-3-metilgutralilco-enzima-a-reduttasi, che è coinvolta in una delle prime tappe per la produzione del colesterolo. Quindi anche se noi non assumessimo il colesterolo con la dieta, abbiamo degli enzimi che sono capaci di sintetizzare il colesterolo stesso. Se questo enzimo è troppo attivo, ovviamente arriviamo a un accumulo di colesterolo indesiderato. Le statine sono molecole che inibiscono questo enzima. Quindi l'uso di statine è piuttosto importante e si è trovato che un fungo, il penicillum citrinum, per fermentazione può produrre una statina di base chiamata compactina, questa molecola che vediamo qui. La quale però se viene idrossilata sul carbonio 6, che è questo, dà origine a una molecola diversa che è stata chiamata pravastatina, che è in commercio oggi, e che è molto più potente della compactina. Quindi nell'industria farmaceutica, dopo una prima fase in cui il processo di sintesi prevedeva una prima fermentazione che faceva uso del fungo penicillium citrinum, che produceva la compactina. La compactina veniva poi purificata attraverso processi, diciamo, chimici al di fuori di questo fungo e veniva poi somministrata la compactina al batterio Streptomyces Carbophilus, il quale contiene questo particolare P450 e il P450 SCA2 che idrossila la posizione 6 e quindi così si ottene la pravastatina. Questo processo ovviamente è, diciamo, molto più desiderabile che produrre ex novo la compactina con processi chimici, tuttavia c'è un processo di purificazione intermedio. Sarebbe molto più semplice, noi potessimo inserire il gene che porta la sintesi della compactina nel batterio per far avvenire in un organismo soltanto la produzione di pravastatina o viceversa introdurre il gene del P450 SCA2 nel fungo. Purtroppo però, diciamo, la questione non è così semplice e si è arrivati comunque a una soluzione usando in un singolo passaggio, una singola fermentazione, un diverso fungo, il Penicillium Crisogenum, questo che vediamo qua, che sostanzialmente è stato ingegnerizzato con ingegneria proteica e metabolica, è stato ingegnerizzato questo fungo in modo tale che lui stesso produce la compactina e lui stesso attraverso un P450 ingegnerizzato porta alla idrossilazione sul carbonio 6. Quindi con una semplice fermentazione si possono produrre oggi le pravastatine usando l'apparato metabolico di questo fungo. Cosa analoga per esempio è avvenuta con gli antimalarici? L'acido artemisinico è un potente antimalarico, la cui sintesi può avvenire attraverso una serie di passaggi con un citocromo P450. CIP si riferisce al gene dei P450, questo CIP 71AV1 può partire da un prodotto naturale, l'ammorfadiene, che viene prodotto da questa pianta che è l'artemisia anna e questa pianta contiene anche dei P450 capaci di, partendo dalla morfadiene, capace di arrivare all'acido artemisico. E anche in questo caso il clonaggio di questo P450 in batteri fa sì che oggi questo antimalarico possa essere prodotto attraverso processi di fermentazione. Altro esempio è quello degli steroidi. Gli steroli possiedono questa impalcatura comune che ricorda il colesterolo proprio e esempi di steroidi sono ormoni sessuali come il testosterone, l'idrotestosterone, l'estradiolo, il progesterone o degli ormoni corticosurrenali come il cortisolo e l'aldosterone. Però variazioni, sostituzioni chimiche su questa impalcatura di base degli steroli possono portare a farmaci di diverso tipo. Oggi si conoscono più di 300 farmaci di tipo steroideo che possono avere le applicazioni più varie da antitumorali, antinfiammatori, antimicrobici, antivirali, antiestrogenici, anticonvulsivanti. Addirittura il desametasone di cui avrete sentito parlare che pare abbia una certa azione antinfiammatoria nel trattamento del Covid appartiene a questa classe. Anche in questo caso per fortuna abbiamo dei P450 che sono capaci di legare al loro interno, qui vedete una struttura di un P450 nel suo sito attivo, è capace di fare avvenire questa serie di reazioni dove vedete che partendo dal progesterone si possono ottenere tutta una serie di molecole cortisoniche che hanno attività diverse e queste reazioni possono avvenire inserendo questi diversi P450, vedete che hanno sigle diverse perché sono geni diversi che codificano proteine diverse che danno delle sostituzioni diverse, vedete che in questo caso è avvenuta la rimozione di un gruppo idrossilico a questo livello, mentre invece in questo caso è avvenuto lo spostamento di doppio legame a livello di questo anello, quindi reazioni estremamente particolari in condizioni molto controllate che danno molecole di interesse farmacologico prodotte per fermentazione in lievito. La vitamina D3, la vitamina D3 anche essa è un derivato se vogliamo di molecole tipo steroideo e la forma attiva della vitamina D3 è l'1,25 di idrossi vitamina D3 che ha quindi questo gruppo idrossilico in questa posizione 25 e in quest'altra produzione che è la posizione 1. Anche in questo caso la sintesi della vitamina D3 può avvenire grazie al P450 di un batterio, questo batterio pseudocardia autotropica che è capace di produrre ingenti quantità di questa molecola attraverso processi fermentativi. Ultimo esempio e siamo in fase di chiusura è quello delle bioplastiche, quindi un ambito diverso, non farmaceutico, oggi sappiamo benissimo che le plastiche sono un problema ambientale, ma si possono produrre delle bioplastiche, quindi plastiche che si producono grazie a dei polimeri che si ottengono da fonti rinnovabili. A seconda delle plastiche possiamo avere delle plastiche derivate da molecole diverse come per esempio le plastiche derivate da amido, mais, patate eccetera, plastiche derivate da cellulosa, altro biopolimero, plastiche derivate da proteine come collagene, come cheratine, soia, plastiche derivate che sono dei poli acidi lattico, acido lattico quello che abbiamo trovato nella fermentazione di cui abbiamo parlato precedentemente, oppure delle plastiche che hanno un aspetto molto più, molto meno se vogliamo biologico, questo dei poli idrossi alcanoati, PHA, ma anche questi possono essere ottenuti attraverso tecniche di fermentazione. In questo caso, sempre stando sul tema P450, si sfrutta l'idrossilazione sul carbonio terminale, che viene chiamato carbonio omega, di acidi grassi, gli acidi grassi sono delle molecole, sono delle biomolecole. La formula generale di queste plastiche, di questi PHA, è questa che vedete qui, dove c'è un numero variabile di atomi di carbonio e a seconda del numero di atomi di carbonio che costituisce il mattone di base di queste molecole, si potranno usare organismi diversi, per esempio abbiamo degli organismi specializzati nella idrossilazione in posizione omega di catene che variano da 3 a 5 atomi di carbonio, oppure da 6 a 14. Nel caso di catene corte 3,5 addirittura c'è proprio già una plastica sul mercato, che è il cosiddetto biopol, che è quella la cui formula vedete in questa diapositiva. Oggi si concentra l'attenzione su polimeri di acidi grassi a catena più lunga, C18, C16, acido oleico, acido palmitico, sempre di origine biologica. Perché? Perché queste, si è ancora in fase di sviluppo, sono plastiche che si presume abbiano, una volta che si è venuta l'idrossilazione in questa posizione, quindi si è venuta l'esterificazione nel processo di polimerizzazione della bioplastica, si ottengono delle plastiche con delle capacità, con delle caratteristiche meccaniche più forti e quindi più desiderabili. Quindi abbiamo visto una panoramica sul metabolismo, su diversi processi di fermentazione, produzione di molecole di interesse farmaceutico, delle bioplastiche e con questo termino la mia prima parte e lascio la parola alla professoressa Valetti per la parte sui biocarburanti e fissaggio della CO2. Grazie. Allora io passo subito a farvi vedere quello di cui parlerò, che è la produzione di biocarburanti e la fissazione, diciamo la cattura, la conversione dell'anidride carbonica. Allora il contesto qual è? Ovviamente quello di applicare la conoscenza della biochimica e del metabolismo microbico e eventualmente degli approcci biotecnologici simili a quelli di cui ha già parlato il professor Gilardi per recuperare energia rinnovabile, quindi da biomasse di scarto, essenzialmente che sono già un problema nel trattamento, oppure eventualmente recuperare attraverso l'energia solare direttamente i cosiddetti solar fuel, cioè combustibili rinnovabili. Allora l'outline di quello di cui vi parlerò è già stato accennato, il recupero dell'energia riducente per la produzione di idrogeno attraverso i metabolismo, gli enzimi e poi accenneremo alle applicazioni. Vi farò vedere alcuni biocombustibili di tipo alcolico, alcuni di quali avete già visto, l'etanolo per esempio, avete già visto quale può essere la strategia di produzione biologica e poi faremo alcuni esempi un po' veloci su metanolo e butanolo e poi le strategie biologiche con cui le cellule in generale e in particolare quelle microbiche catturano la CO2 e in questo sono assolutamente dei sistemi molto efficienti. In particolare faremo un focus a alcuni metabolismi microbici, tra i quali un ciclo particolare che vedremo che si chiama di Wood-Liungdal, ma anche la metanogenesi e poi alcuni approcci innovativi basati su enzimi. Allora partiamo quindi con la prima parte sulla produzione di bioidrogeno che ci riguarda anche più direttamente perché insieme al professor Gilardi abbiamo una linea di ricerca proprio su questa bioproduzione. Facciamo subito però un piccolo passo indietro perché tutti i tipi di combustibili di cui vi ho parlato, quelli diciamo basati sull'idrogeno, quelli che prevedono una fermentazione e la formazione di alcoli e anche il recupero di CO2 per formare dei combustibili, in qualche modo si inquadra nella ottica di ottimizzare le risorse energetiche recuperando energia riducente, quella che nei viventi viene intrappolata sotto forma di NADH o NADPH molto spesso, l'avete sentito citare molte volte, per poter recuperare da queste biomasse di scarto o attraverso i processi biologici ancora dell'energia e in particolare vediamo che per esempio l'idrogeno è capace di intrappolare una grossa quantità di energia per chilogrammo, essendo un gas ovviamente non per litro per cui ha qualche problema di stoccaggio e compressione, però sicuramente si recupera una grossa quantità di energia e soprattutto si produce soltanto acqua attraverso una combustione controllata che è quella delle cellule a combustibile. I combustibili di tipo bioalcoli anche loro hanno quantità energetiche comparabili a quelle delle benzine, poco più, poco meno, così come il metano. Si tratta sempre di intrappolare dell'energia riducente però che poi per combustione verrà liberata sotto forma di energia e in questo caso produrrà anche CO2, mentre nel primo caso no, quindi l'idrogeno ha questo minore impatto sui gas serra. Ovviamente la priorità per gli organismi invece è sintetizzare ATP, non è che sono particolarmente interessati ad accumulare energia riducente per noi. Il vantaggio è che in alcuni casi, per esempio in particolare negli organismi anaerobi, è ancora possibile recuperare questa energia riducente e anzi farci aiutare dall'organismo stesso per produrla. Negli organismi aerobi invece questa energia riducente intrappolata sotto forma di NADPH viene, come avete visto, molto efficientemente convertita in energia per la cellula, cioè ATP, attraverso la catena respiratoria, usando come accettore finale l'ossigeno. Se l'ossigeno molecolare non è presente, l'avete già visto con il professor Gilardi, avviene o la rigenerazione di questi cofattori attraverso la fermentazione lattica oppure attraverso la fermentazione alcolica. Questo ovviamente ci interessa anche come applicazione dal punto di vista, diciamo, per i combustibili, infatti la rivedremo e in entrambi i casi abbiamo già visto che l'idea finale è che questi elettroni che si accumulano sul NADH vanno in qualche modo smaltiti dove o riducendo il piruvato a lattato o riducendo l'acetaldeide a etanolo. Quindi vanno a essere depositati su questi substrati in modo da avere questi diversi prodotti per poter rigenerare il NAD+, che ci serve per portare avanti la glicolisi, senza la quale anche questa piccola quantità di ATP, non particolarmente efficiente, viene però prodotta per consentire la crescita della cellula. Diciamo che ci sono però altri tipi di fermentazione di cui non abbiamo ancora parlato e in particolare c'è una fermentazione che serve sempre a dissipare l'eccesso di elettroni, ma questa volta non gli elettroni che si trovano sul NADH, ma quelli che sono in qualche modo depositati temporaneamente sulla ferredossina, che è una piccola proteina che anche lei subisce questo ciclo di ossidazione e riduzione, ma che può in qualche modo cedere i propri elettroni direttamente a che cosa? Attraverso un enzima che si chiama idrogenasi, di cui parleremo a breve, sia nei batteri anaerobi stretti come i clostridi, in un processo che si chiama fermentazione al buio, dark fermentation, semplicemente perché l'altro processo invece richiede la luce, quello di cui parleremo invece qua in basso, possono direttamente depositare gli elettroni dove? Sui protoni e quindi basta avere due elettroni e due protoni, con l'idrogenasi si produce direttamente idrogeno. Lo stesso avviene in alcune microalghe eucariotiche unicellulare come la clamidomonas rainardi, per esempio, che quando ha un eccesso di elettroni accumulati durante la fotosintesi, fa la stessa cosa, ha bisogno di dissipare questo eccesso di energia riducente, cosa che normalmente nelle cellule eucariotiche aerobie non accade, dissipare l'eccesso vuol dire semplicemente avere una catena respiratoria più efficiente, quindi più ATP, invece in questo caso e in alcuni contesti fa la stessa cosa anche quest'alga. Vediamo tra un attimo come. Allora, prima di tutto vediamo cosa succede invece nei batteri. Allora, in questo caso siamo, diciamo, nella fermentazione che sfrutta macromolecole organiche di base di scarto, che possono essere presenti nelle scarti, che ne so, che derivano dalla grande distribuzione dei supermercati, oppure del processamento di alcuni cibi, oppure gli scarti di tipo agro food in generale o le deiezioni animali, che contengono ancora moltissime molecole organiche. Questo sia in natura, sia negli impianti di fermentazione, diciamo, di digestione anaerobica, passano attraverso un'idrolisi da parte di batteri che spezzano queste molecole, i polisaccaridi, i monosaccaridi, le proteine, l'aminoacidi e così via. Poi ci sono dei batteri fermentativi, tra cui per esempio alcuni che possono convertire in acidi organici e poi abbiamo quello che ci interessa, cioè i batteri acetogeni, che sono quelli in grado di operare questa trasformazione, cioè di produrre idrogeno. Producono anche CO2, quindi chiaramente questo non è del tutto neutro, ma producono una CO2 che deriva da biomasse rinnovabili, quindi in pratica si chiude un cerchio. Ovviamente questo idrogeno prodotto sono elettroni, sono quindi risorse utili per gli organismi e quindi in natura o in alcuni consorsi sono presenti degli altri batteri, anzi degli Archea, che sono un'altra classe, che sono in grado di utilizzarli e in questo caso se vogliamo recuperare idrogeno dobbiamo in qualche modo bloccarli, ucciderli o annientare il loro metabolismo, quindi in qualche modo dobbiamo fermare questa trasformazione. Perché questi batteri producono idrogeno? Per loro è un prodotto di scarto, quindi è un prodotto che viene eliminato proprio per poter depositare gli elettroni che hanno in eccesso e permettere invece che continuino i cicli che vi sto facendo vedere con il puntatore in cui la ferredossina ridotta diventa ossidata e permette per esempio di proseguire questa reazione che si chiama fosforoclassica nella sintesi dell'ATP. Nello stesso modo in un'altra reazione che dipende da un enzima che si chiama piruvatoformiato liasi, vedete che la ferredossina ferredossina in qualche modo consente il consumo del formiato a produrre CO2, il formiato un acido quindi se si accumulasse avrebbe anche qualche problematica per la cellula, di nuovo consumando questo che è un prodotto di questa reazione tutto l'equilibrio si sposta in questa direzione consentendo la sintesi di ATP. Siamo quindi nelle condizioni ideali, la cellula produce ATP formando un prodotto di scarto che a noi serve per la cellula è un vantaggio e per noi un vantaggio è un win-win. Negli organismi invece fotosintetizzanti come le alghe unicellulari c'è tutta la catena della fotosintesi, non stiamo qua ad andare nel dettaglio ma voi sapete che la luce permette di ricavare elettroni dall'acqua nella reazione inversa a quella che avete visto nella respirazione, cioè l'acqua si scinde a formare ossigeno e a recuperare elettroni, questi vengono trasferiti e di nuovo la ferredossina è un accettore. La ferredossina però può andare in due direzioni diverse, in un caso va a produrre idrogeno attraverso queste idrogenasi ma in realtà quello che succede normalmente è che nel ciclo complessivo la ferredossina può andare o verso l'idrogenasi a dare elettroni a produzione di idrogeno oppure normalmente questi elettroni servono per la fissazione della CO2 nei vegetali così come nelle alghe che hanno lo stesso tipo di metabolismo fotosintetico. Quindi dobbiamo considerare che all'interno dell'alga direttamente dalla ferredossina o attraverso il pool di riducenti classico che avete già visto, quindi NADPH o NADH, o si va nella direzione della sintesi di zuccheri attraverso il ciclo di Calvin o si va nella direzione della produzione di idrogeno. Quindi in questo caso se vogliamo produrre idrogeno dalle alghe dobbiamo avere ben calibrata il fatto che sono due vie alternative e quindi un po' più svantaggioso in questo senso perché la cellula le interessa ad andare in alcuni casi verso la sintesi di zuccheri. Il vantaggio ovviamente è che qui l'energia non viene da biomasse di scarto ma viene direttamente dal sole. Quali sono gli enzimi coinvolti e qui mi prendo qualche minuto per descriverveli perché ci lavoriamo direttamente. Sono delle idrogenasi, in particolare il ferro ferro idrogenasi, quella a sinistra che vedete è quella del batterio, quella a destra invece è quella dell'alga. Hanno in comune una parte che è la porzione diciamo catalitica e poi altri altri pezzi che adesso vedremo in dettaglio. All'interno di questo dominio proteico, cioè un centro catalitico che contiene degli atomi di ferro e degli atomi di zolfo, che sono in una struttura particolarmente interessante che permettono quindi in modo reversibile la sintesi di idrogeno oppure il recupero di elettroni dall'idrogeno. Questi enzimi sono così efficienti perché ovviamente si sono raffinati in milioni di anni di evoluzione che possono in un secondo catalizzare diecimila volte questa reazione. Sono anche degli enzimi che hanno a loro volta, come avete già visto in molti esempi che vi ha citato il professor Gilardi, enzimi che hanno bisogno di una piccola catena redox, quindi in pratica hanno questi centri che vedete qua che sono dei centri ferrozolfo che veicolano in modo molto efficiente gli elettroni a sito attivo dove avviene la reazione di riduzione dei protoni a formare l'idrogeno. Questa struttura diciamo a blocchetti, quindi questa struttura modulare è proprio tipica di questi enzimi e ci sono tantissime combinazioni. Questi ovviamente servono per mantenere una maggiore efficienza, ma vi dimostrano anche che la natura gioca un po' a combinare dei mattoncini. E la parte interessante che stiamo attualmente studiando è che questi mattoncini, vedete qua il mattoncino centrale in blu e la porzione cataliticamente attiva, mentre il resto sono delle subunità accessorie che servono per veicolare gli elettroni o per delle funzioni che probabilmente ancora non conosciamo in dettaglio, anche perché di tutte queste combinazioni che sappiamo esistere perché conosciamo i geni, conosciamo in dettaglio un numero limitato di proteine di cui c'è la struttura. E proprio recentemente il professor Gilardi e io abbiamo partecipato a una ricerca internazionale dove è stata risolta un'ulteriore struttura di una idrogenasi nuova che ha sicuramente una nuova struttura, ha delle caratteristiche nuove che già conosciamo e ne altre che dobbiamo scoprire. A cosa serve questo bioidrogeno che abbiamo prodotto? Beh, serve nelle celle a combustibile che sono, vi ricordo che le celle a combustibile sono state utilizzate in tutte le navette della serie Apollo e sono attualmente utilizzate anche sugli shuttle e vedete che nelle celle a combustibile dove l'idrogeno viene nuovamente combinato con l'ossigeno ricavando l'energia elettrica, non è possibile bruciarlo direttamente perché ci vuole una sorta di combustione controllata, un processo opposto a quello dell'elettrolisi. Vedete che un motore elettrico combinato a una cella a combustibile basata sull'idrogeno è appena un po' meno efficiente del motore elettrico combinato con le batterie a litio, ma è sicuramente più efficiente dei classici motori invece a diesel o a benzina. Tant'è che in questo momento ci sono allo studio tantissimi automobili, la Hyundai per esempio sta puntando molto sull'idrogeno, ci sono dei treni a idrogeno, ci sono degli aerei, ci sono ovviamente altri mezzi di trasporto e addirittura ci sono i battipista per le piste da sci in cui il vantaggio ulteriore è che la bombola di idrogeno che ovviamente per lo stoccaggio richiede un certo peso funziona anche da contrappeso, quindi vedete che ci sono una serie di applicazioni. Per quello che riguarda il bioidrogeno in particolare, l'idrogeno si può anche produrre tramite altre vie, c'è un investimento a livello globale, vedete che sia a livello regionale, per esempio in Toscana il bioidrogeno viene utilizzato dalla raccolta, prodotto dalla raccolta differenzata dell'umido porta a porta, in Giappone si sta puntando molto e negli Stati Uniti già da più di dieci anni il NARIEL, che è l'istituto nazionale che studia le energie rinnovabili, ha in effetti mappato quali potrebbero essere sia le risorse in termini di biomasse, di scarto o di terreni marginali che non possono essere utilizzati per il cibo, che potrebbero fornire all'idrogeno rinnovabile tramite sintesi diciamo microbica oppure tramite queste diciamo factory che sono basate sulle alghe per la produzione di idrogeno rinnovabile e proprio in termini di diciamo produzione batterica noi abbiamo partecipato ad alcuni progetti regionali finanziati dall'Unione Europea negli anni passati in collaborazione con l'Environment Park di Torino e vedete che si produce una quantità di idrogeno abbastanza consistente, più del 40%, una parte anche di CO2 che può essere purificato da diversi tipi di ceppi batterici che abbiamo selezionato e di cui poi abbiamo studiato il metabolismo proprio in termini di produzione di idrogenasi, quindi di questi enzimi e a livello ovviamente mondiale soprattutto paesi in rapido sviluppo come l'India per esempio stanno puntando nelle loro zone più rurali che hanno una grande quantità di prodotti di scarto alla produzione proprio di bioidrogeno da scarti e questo riferimento lo trovate anche in fondo tra il materiale che potete consultare. Per quello che riguarda le alghe stesso discorso si passa da la produzione di idrogeno per l'utilizzo nelle fuel cells e anche qua abbiamo degli cosiddetti scale up dalla scala di laboratorio a questi impianti in cui abbiamo questi tubi trasparenti dove viene fatto ricircolare il materiale delle alghe che permette quindi un ottimo irraggiamento e una limitata diciamo occupazione del suolo da parte di queste algal factory per la produzione anche di bioidrogeno non solo ma in particolare di bioidrogeno. Passiamo adesso alla parte invece che riguarda i biocombustibili a base alcolica e qui avete già visto degli esempi vedremo etanolo, metanolo e butanolo e per quello che riguarda l'etanolo anche qua non andiamo nel dettaglio ma il punto chiave è ovviamente quello che vedete qui in basso cioè questa conversione di acetaldeide ad etanolo attraverso l'alcol di idrogenasi di cui vi ha già parlato il professor Gilardi e questo ovviamente è una delle biotecnologie più antiche del mondo quindi che noi lo utilizziamo per produrre bioetanolo non per la birra o per il vino ma essenzialmente come combustibile e diciamo una novità relativa. Quello che è nuovo invece che con la biologia sintetica e biotecnologie la capacità di ringegnerizzare sia il Saccharomyces cerevisiae che avete già visto questa foto l'avete già vista prima che è un organismo assolutamente utilissimo sia con altri organismi che competono in termini di produttività non per le applicazioni alimentari o enologiche ma per queste come la zimomonas mobilis che invece è un batterio che vedete qui a destra c'è la possibilità anche di migliorare quindi aumentare per esempio la tolleranza alla temperatura la tolleranza all'etanolo che quando si accumula un altro centro livello diventa tossico anche per le cellule che lo producono oppure modulare quella che nei lieviti si chiama glucose repression che impedisce per esempio di utilizzare altre fonti di carbonio i lieviti preferiscono il glucosio e consumano solo glucosio bloccando tutte le altre possibilità di sfruttamento di altre fonti oppure non sono capaci di utilizzare altre fonti di carbonio e quindi è possibile per esempio ingegnerizzare l'utilizzo per esempio dell'oxilosio oppure migliorare il trasporto degli zuccheri all'interno oppure il diciamo il trasporto del prodotto etanolo verso l'esterno e per esempio l'oxilosio è una delle fonti di carbonio interessanti perché deriva dalle emicellulose quindi materiale di tipo ligno cellulosico degradato può fornire dell'oxilosio che normalmente il saccharomyces cerevisia disdegna non gli piace non lo mangia e invece si può ingegnerizzare e vi ricordo soltanto che qui in Piemonte a Crescentino c'è un impianto importante anche a livello mondiale integrato per la produzione di etanolo di seconda generazione che vuol dire etanolo ricavato da zuccheri di scarto che derivano da biomasse ligno cellulosiche la digestione di queste biomasse avviene con degli enzimi forniti da altre company importanti a livello mondiale come Novozymes e questo impianto è stato costruito originariamente da Mossigisolfi attraverso l'azienda sorella che era Biochemtex e poi è stato recentemente ceduto a Universalis ed è uno degli impianti diciamo di punta per la produzione di etanolo in questo momento poi vedete lo trovate anche sulle news attualmente questo etanolo viene anche utilizzato come per la produzione di disinfettante che ovviamente ha una elevata richiesta in questi periodi di pandemia un altro importante approccio è quello della sintesi del biometanolo allora il metanolo si può ottenere per due vie o attraverso il metano che di nuovo una molecola che vedremo si può ottenere per via biologica per ossidazione controllata oppure da una catena di riduzione della co2 siccome la riduzione della co2 la vediamo verso la fine ne riparleremo parliamo invece velocemente di come si può fare ottenerlo dal biometano in questo caso siamo coinvolti in un progetto di nuovo a livello regionale di cui trovate anche il sito se volete andarlo a cercare si chiama progetto Saturno è finanziato dalla regione Piemonte con i fondi europei e questo è un pezzettino dell'approccio complessivo allora in questo caso noi sappiamo che ci sono dei batteri che si chiamano metanotrofi che sono elencati qua metilococcus capsulatus e così via che sono in grado di convertire il metano a metanolo il problema è che poi questi batteri il metanolo che producono se lo mangiano cioè lo convertono poi ad altri composti o lo combinano con altre molecole per poterlo utilizzare come fonti di carbonio quello che ci interessa sono gli enzimi che questi batteri utilizzano per questa conversione che si chiamano metano monossigenasi abbreviato come mmox perché vedete che c'è l'mmo h e altre componenti possono essere basati quelle a vedete a sinistra sul ferro oppure sul rame e consentono un'ossidazione controllata del metano cosa che dal punto di vista chimico non è affatto banale perché questa è una reazione che i chimici chiamano ancora dream reaction cioè una reazione che non è così facile da fare avvenire con un catalizzatore chimico perché o il metano viene direttamente bruciato o esplode oppure ad alte temperature si formano degli altri sottoprodotti che era quello che vi diceva inizialmente professor gilardi questa reazione così specifica viene invece realizzata dagli enzimi che hanno bisogno però di equivalenti di riduzione in questo caso partono dal nad h anche loro dal nad ph ma può essere in qualche modo mimata dai chimici che in questo caso si ispirano alla natura per creare dei siti simili a quelli degli enzimi in composti in organici naturali come le zeoliti o le mordeniti e la nostra collega silvia bordiga che all'università di torino lavora esattamente su un progetto di ricerca di questo tipo con l'utilizzo del rame quindi in questo caso gli enzimi suggeriscono ai chimici nuovi catalizzatori sono di ispirazione come ultimo punto e qua ci colleghiamo in realtà sia all'etanolo che al butanolo i clostridi sempre loro che sono di nuovo sono già stati i protagonisti della produzione di idrogeno in eccesso di nad h anche in questo caso quindi quando riescono ad accumulare una grossa quantità di diciamo equivalenti di riduzione vedete che la nad h è sempre la chiave importante possono anche produrre dei solventi si chiamano clostridi solventogenici il clostridium aceto butylicum è il più performante producono questa combinazione di solventi che si chiama a b e che sta per acetone che qua non trattiamo butanolo etanolo e quindi sono in grado anche qua di recuperare dai diciamo dagli scarti perché vi ricordo che in questo caso l'acetato il butyrrato per loro sono degli scarti anche che non riescono a sfruttare fino in fondo mentre invece possono produrre etanolo e butanolo che noi utilizziamo come solventi o come combustibili come ultima cosa che si allaccia alla fissazione di co2 vi ricordo che c'è un'azienda internazionale che si chiama l'anzatec che invece utilizzando sempre i batteri di tipo acetogenico che abbiamo già visto ha invece una strategia di cattura della co2 e dell'idrogeno che vedremo tra un attimo questa via di lyungdal di wood e lyungdal che ha questo nome un po particolare in cui l'etanolo può essere prodotto a partire dalla co2 quindi in realtà come vedete ha già uno sviluppo importante dal punto di vista commerciale quindi ha già avviato degli impianti commerciali quattro anni fa e a livello internazionale quindi questi metabolismi microbici sono applicati per la produzione di biocombustibili l'ultima parte passiamo alla conversione della co2 beh in questo campo diciamo che gli enzimi gli organismi in generale ma gli enzimi in particolari sono dei professionisti di co2 conversion perché in tutti questi cicli che ovviamente non guardate vegetali alghe ciano batteri e diversi cicli batterici ci sono una serie di strategie per catturare la co2 e convertirla a materiale utile per la cellula noi in realtà ci focalizziamo soltanto su un piccolo ciclo diciamo metabolismo batterico e su uno degli enzimi che ne fa parte che è la formiato dei idrogenasi perché ci stiamo lavorando questo ciclo si chiama appunto wood lyungdal pathway ovvia metabolica di wood lyungdal perché wood lyungdal sono i nomi dei due ricercatori che nel 65 l'hanno proposto vedete che in questo caso la co2 viene in qualche modo catturata lasciate stare tutti i passaggi intermedi quello che ci interessa è che il uno degli enzimi che la cattura si chiama formato dei idrogenasi e come ritorna il dei idrogenasi se vi ricordate lattato dei idrogenasi alcol dei idrogenasi è sempre il prodotto che si forma dopo riduzione il vantaggio è che la co2 gassosa il formato liquido ed è un vantaggio rispetto per esempio all'altro enzima sempre del pathway che invece la co dei idrogenasi che da un gas serra ne produce uno tossico che o comunque al batterio serve quindi il monossido di carbonio è utile in questo pathway ma è un pochino più complicato da gestire cosa si produce si produce da questo pathway andiamo a vedere solo alla fine l'acetilcoenzima acetilcoenzima che potrebbe in qualche modo essere utilizzato perché se voi considerate che non ci siano altre fonti di carbonio se non la co2 la glicolisi ovviamente non si può attuare né si accumula del piruvato e quindi siamo bloccati ma l'acetilcoenzima potrebbe entrare ancora a valle di questi due punti e permettere la sintesi di atp il problema però è che per fissare la co2 la cellula ne ha spesa un po di atp quindi in realtà il costo di conversione del monossido di carbonio o della co2 in atp bilancia praticamente la produzione di atp quindi tanto se ne consuma quanto se ne produce quindi siamo più o meno al netto oppure c'è un margine molto piccolo il vantaggio è che nuovamente attraverso l'utilizzo dell'idrogeno che viene diciamo a fornire la fonte di elettroni quindi serve un idrogenasi e serve che l'idrogeno sia fornito ma potrebbe essere idrogeno prodotto per via biologica alla cellula in questo caso un costo energetico andrebbe a bilanciare il fatto che catturiamo la co2 che è un gas serra quindi è svantaggioso si forma di nuovo un piccolo gradiente protonico che di nuovo viene sfruttato attraverso un atp asi che ha forse un una resa in atp leggermente diversa da quella che vi ha fatto vedere il professor gilardi nelle cellule eucariotiche perché ci sono delle piccole differenze proprio nel nella struttura però il concetto è lo stesso non dimentichiamo però che dei professionisti nella fissazione e conversione della co2 sono gli archea che abbiamo già citato prima che attraverso la stessa catena utilizzano invece l'idrogeno che è stato prodotto gli acetogeni per produrre metano possono produrlo anche attraverso il consumo dell'acetato e quindi si chiamano o idrogenofili o acetoclasti a noi interessa ovviamente di più quelli che consumano la co2 e producono metano piuttosto che quelli che da acetato producono sia metano che co2 cosa fanno gli archea in pratica gli archea consumano idrogeno co2 ma che vengono prodotti da altri organismi diciamo che non è che ci sia una altissima produzione ma siccome vivono molto vicino gli archea possono sfruttare direttamente l'idrogeno che gli acetogenici invece di fatto producono per come scarto. La metanogenesi però non è una fermentazione è una strana forma di respirazione anaerobia e vi invito a riflettere su che cosa respirano questi metanigeni. In realtà quello che succede è che entrano gli elettroni attraverso l'idrogeno in più punti della catena entra la co2 la co2 viene progressivamente ridotta a composti via via sempre del carbonio via via più ridotti acidi aldeidi alcoli e così via finché non arriviamo al metano e il metano è il prodotto di scarto finale di nuovo combinazione win win nel senso che il metano è uno scarto per la cellula ma invece è una risorsa per noi attraverso tutte queste trasferimenti con meccanismi simili a quelli che avete già visto anche se sono un po' più complicati da studiare ci sono due punti almeno in cui si formano dei gradienti un gradiente di sodio che poi può essere in qualche modo riconvertito in una forza proton motrice cioè in un gradiente di idrogeno e quindi ci ritroviamo ad avere questi gradienti che in qualche modo accumulano in qualche modo idrogeno all'esterno della cellula questa volta e quindi se ci focalizziamo soltanto su questo ritorniamo in una situazione simile a quella che avete già visto cioè una ATP sintasi di membrana del tutto simile a quella che vi ha fatto vedere molto nel dettaglio il professor Gilardi questa volta abbiamo che è l'esterno della cellula e la membrana plasmatica a essere invece coinvolti e qua ovviamente ritorniamo all'ipotesi che ovviamente organismi semplici di questo tipo siano in qualche modo diventati i nostri mitocondri quindi l'ipotesi simbiontica di origine dei mitocondri proprio perché nei batteri più semplici avviene un meccanismo simile a quello che avviene sulla superficie diciamo anzi sulla membrana interna del nostro mitocondrio quindi circa il 95% della CO2 serve per produrre questa energia con un buon recupero energetico questa reazione è una reazione spontanea in realtà siccome c'è un po' poco idrogeno questa diciamo il delta G della reazione che è la forza che la conduce è un pochino meno marcata più è negativo ovviamente maggiore è lo spostamento verso destra qua abbiamo un po' di di carenza di idrogeno ma di fatto una reazione molto efficiente e quindi vi ricordo anche qua che a livello locale è stato inaugurato da poco lo vediamo perché sono tutti con le mascherine il nuovo impianto di produzione di biometano della CEA Pinerolese qua in cintura di Torino dove si produce del biogas che contiene anche del biometano il biometano poi viene purificato e immesso direttamente nella rete nazionale quindi ce lo ritroviamo nella rete del metano che alimenta le nostre case. L'ultimo punto esso concludendo è la riduzione enzimatica della CO2 in questo caso sfruttiamo degli enzimi tra cui proprio la formiato dei idrogenasi che in qualche modo sono utili per convertire la CO2 attraverso meccanismi diciamo innovazioni basati su enzimi isolati in cui questi enzimi possono o in qualche modo sfruttare il NADH come fonte di diciamo di elettroni o altre fonti lo vedremo a breve per ridurre progressivamente la CO2 a formiato e ci sono alcuni enzimi che lo fanno particolarmente bene e poi ulteriormente ci sono altri enzimi che sono capaci di convertirlo a formaldeide e poi a metanolo e questa catena è una catena di riduzione che permetterebbe di riconvertire perché poi il metanolo bruciato riprodurrebbe CO2 che in qualche modo incappolata anche soltanto in una certa percentuale diminuirebbe le emissioni di gas serra in atmosfera. Queste formiato dei idrogenasi possono catturare elettroni o possono ricevere elettroni sia dal NADH sia dalla ferredossina che abbiamo già citato sia da altri coenzimi sia dall'idrogeno e possono anche ricevere elettroni eventualmente da una rete elettrica quindi da un elettrodo a base carboniosa o a base di semiconduttori e quindi in qualche modo l'enzima può essere immobilizzato sull'elettrodo ovviamente in una ottica di cattura della CO2 che richiede un certo investimento ma ovviamente l'energia elettrica rinnovabile si può ottenere e col vantaggio che in questi sistemi questa reazione che avviene a circa il potenziale di 420 millivolt è altamente reversibile cosa significa che non è necessario applicare un sovra potenziale molto grande ma tutti gli enzimi funzionano molto vicino alla reversibilità quindi basta spostarsi un pochino a un potenziale un po' più alto un po' più basso rispetto a quello diciamo dell'equilibrio che è questo quindi scendere un pochino di potenziale per ottenere la riduzione della CO2 in questo senso ci sono dei gruppi di ricerca internazionali che ci stanno lavorando da anni tra cui un gruppo a Cambridge che è quello del professor Reisner e altri gruppi per esempio in Estremo Oriente dove questa combinazione di questo enzima è stato fatto con dei materiali fotoattivabili dove gli elettroni vengono forniti tramite l'irraggiamento solare di materiali fotoattivati e questo consente di nuovo attraverso la formato di idrogenasi di ridurre la CO2 a formiato che essendo liquido poi può essere convertito ad altri combustibili come il metanolo oppure essere impiegato nell'industria chimica. Come ultimo esempio vi porto appunto questo pubblicato di recente dal gruppo del professor Reisner in cui la formiato di idrogenasi è stata combinata con un fotosistema, un'altra proteina capace di catturare i laggi solari, in questo caso il sistema cattura l'energia solare, prende gli elettroni dall'acqua producendo ossigeno e gli elettroni vengono poi coinvogliati per la fissazione della CO2. E con questo io ho concluso, ovviamente troverete qua in coda una serie di articoli scientifici per comprendere meglio l'argomento, trovate anche una serie di video di approfondimento tra i quali quelli di cui vi ha accennato il professor Gilardi e altri siti che riguardano invece le applicazioni e poi trovate un certo numero di siti e di risorse bibliografiche e con questo noi vi ringraziamo per l'attenzione.